A partire ad affrontare bisogna... è una squadra lentella che verticalizza molto, ha grande corsa in avanti, perciò squadre simili a Cittadella, al Pordenone, squadre che magari non hanno questa struttura ma hanno grande gamba di profondità, squadra che ha i punti che ha perché se li ha meritati, anche il Pordenone, tutti dicevano che sta là, quando ci giochi contro li rendi conto perché hanno quei punti, sono meritati e l'entella è un'altra squadra che sta lì in mezzo a quelli perché se l'è meritato, è una squadra temibile che all'andata abbiamo perso una partita strana o così, però è una squadra forte, Frosinone se vuole fare il campionato che deve fare domani deve fare una grande partita, portare a casa i punti perché è una partita fondamentale domani. Il mercato è stato così, è stato un buon mercato, abbiamo preso giocatori che potrebbero essere funzionali a quello che ci poteva mancare, abbiamo preso un quinto di sinistra come alternativa, un giocatore esperto come Delia, Tabanelli è una caratteristica importante, un giocatore di inserimento di struttura che lo cercavamo, abbiamo preso un ottimo giocatore, attaccante Ardemagni, un'altra caratteristica che ci mancava, un giocatore d'aria, forte dentro l'aria piccola, l'inque dal discreto rigore alla porta, credo che sia stato un buon mercato. La società, noi siamo intervenuti dove pensavamo che ci servisse qualcosa, ma anche le altre, perciò non è tutto scontato, Frosinone deve fare un campionato importante perché è giusto che sia così, poi dopo io credo che il nostro campionato potiamo far meglio, ma per me è giusto. Tante squadre che hanno speso, che hanno fatto magari anche più di noi, che sono scese alla Serie A, si trovano in acque diverse, perciò niente è scontato penso io e niente è dovuto. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare, il percorso del Frosinone è stato chiaro, è stato un inizio bruttissimo, chissà perché, poi si è ripreso, oggi io dico che il Frosinone ha un'identità, è difficile che una squadra la metta sotto, una squadra che comunque può anche giocare male, però non dà mai quella sensazione di stare in grandissima difficoltà perché concede poco e perciò credo, io sono contento di come siamo arrivati fino a questo punto, poi potremmo prendere un punto più in là, più in qua, potremmo avere tre punti in più, magari stiamo parlando di una stagione diversa, però credo che stiamo in una situazione buona, adesso sta a noi farla diventare ottima, farla mandare avanti. Grazie.